Ciao a tutti, io sono Delei, di San Paolo, del Brasile, e benvenuti su questo video. Vi mostrerò come faccio la caipirinha, mi sto registrando in lingua italiana, perché ormai da anni che abito qua in Italia, e appunto mi hanno chiesto di far vedere come si fa la caipirinha, la vera caipirinha con le dosi giuste. Spero che vi piaccia e che imparate a farla, ok? Andiamo agli ingredienti o tutto quello che ci occorre. Allora, gli ingredienti per fare la caipirinha sono il lime, che è questo limone qua, dello zucchero, la cachaça, che è questa bevanda qua, la cachaça, e del ghiaccio tritato. Andiamo a vedere come si prepara la caipirinha. Allora, si inizia con il lime, una volta lavato, va tolto le parti esterne, che sono questa e questa. Dopodiché, questa è una dosi per un bicchiere. Si taglia il lime a metà, in questo modo, facendo così, uno, due, tre. Dosi per un bicchiere, vi ho detto, si mette il lime dentro del bicchiere. Un cucchiaio e mezzo di zucchero. Un cucchiaio e mezzo di zucchero. Dopodiché, si prende il pestello. Non schiacciare tanto il limone, perché altrimenti la caipirinha diventa un po' amara. Così va bene. Ok? Dopo, si aggiunge la cachaça. La cachaça può mettere tipo un dito sopra il limone già schiacciato nel bicchiere. Ok? Andiamo. Si gira un attimino. Si mette del ghiaccio tritato. O anche se non è tritato, basta che sia un ghiaccio un po' piccolo. Ok? Fino che si copre il bicchiere. Ok? Si mescola. Così. Le cannucce, il segreto della cannuccia, tagliarla così, quasi a metà, perché la caipirinha va bevuta con la cannuccia. Ok? Voilà. La caipirinha è pronta. E qui sta la caipirinha. Spero che vi sia piaciuto il video. E alla prossima. Buonissima. 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 Ok, buonissima.